Ora parliamo di un'eccellenza italiana, un settore in crescita nei numeri e nella qualità. Si taglia la pelle, si assemblano borse, si intarsiano i pellami, mani sapienti e nuovi progetti. Se l'Italia è leader in Europa nel settore della conceria, a linea pelle in questi giorni a Milano, oltre al meglio della produzione nazionale, il desiderio è quello di raccontare l'artigianalità, che anche in tema di pellami ci distingue nel mondo. E i dati confermano che nel 2013 il valore della produzione conciaria è aumentato del 9% con le esportazioni pari a 4 miliardi di euro, segnando un più 8,6%, una forza data dal grande equilibrio tra tradizione e innovazione. Grande ricerca, grande servizio, progettualità, diciamo investire moltissimo per quanto riguarda la sostenibilità, impatto ambientale. Colori decisi, tonalità calde. In tema di tendenze anche questo settore racconta il desiderio di concretezza. Quindi una ricerca del naturale, di valorizzare la superficie, naturalmente sempre con le richieste che ci fanno i nostri clienti di avere delle resistenze eccezionali. Pellami di qualità e sapienza nella mano d'opera, come racconta il laboratorio di tendenze di My Vintage Academy, dove si mostra il lavoro su pezzi unici, dalle tute dipinte a mano alla pelle invecchiata con il vino, fino alle piume da intarsiare nei pellami, insegnare per tramandare. Come si mantengono queste professioni? Queste professioni si mantengono solo sul posto di lavoro. Bisogna tornare un po' al passato, alla vecchia bottega, dove il ragazzo entra e fa ragazzo di bottega e cresce con l'azienda. La scuola è importante per delle basi, ma per la creatività deve nascere qualcosa di diverso.